Sì, la Camorra ha in mano tutta una serie di servizi, da quelli di carattere commerciale in modo prevalente, la gran parte dei supermercati, degli ipermercati, da parte degli esercizi di distribuzione alimentare non solo, sono quasi tutti in mano alla Camorra. Moltissimi esercizi commerciali, anche di media grandezza, sono in mano alla Camorra e quindi il famoso ripulire il danaro sporco. A Napoli è difficile combattere la Camorra, io come militante di sinistra penso ad andare avanti per le mie idee, faccio la mia militanza nel partito, così lo combatto, a Napoli lo sai com'è, è un casino queste cose, a Napoli è un casino.